Lo ridico da capo. Facciamo da capo. Dai, tre, due, uno. Ho sbagliato. Mi ci butto a pesce. Scusa. Ma prima prendo un biscotto. Ho sbagliato il momento. Tutti pronti? No! Magari non mi faccio. Vi mando un bacio e vi ringrazio per queste settimane trascorse insieme. Ciao. No! No!